Questo è un itinerario culturale che il Consiglio d'Europa ha già attenzionato, l'abbiamo già pre-presentato. È il primo ed unico itinerario che unisce il sud dell'Europa con il nord estremo, quindi anche una novità rispetto ai cammini classici. Quindi mi auguro e spero che la presentazione che faremo, che depositeremo alla volta di settembre, veda poi l'approvazione già in questo anno perché vorremmo essere protagonisti nel 2024 di Bodo, capitale europea della cultura, che sta credendo molto in questa iniziativa e quindi qualcosa di interessante pensiamo di fare proprio il prossimo anno a Bodo con Via Querinissima, portando anche il diario autentico di Pietro Querini che ci verrà prestato da Biblioteca Marciana.